Siamo in compagnia della dottoressa Rosa Lampasone, responsabile del reparto di terapia intensiva del Covid Hospital di Agropoli per tracciare un bilancio di questo anno che velocemente è trascorso, ma che ha visto un impegno assiduo non solo della dottoressa ma anche di tutto lo staff che l'ha supportata in questi lunghi 12 mesi dove la pandemia non ha dato tregua purtroppo al territorio del Cilento. Allora, a un anno dall'apertura di questo reparto possiamo fare un po' il sunto della situazione e attualmente anche far capire ai cittadini di Agropoli e non solo com'è la situazione. L'ho detto bene, è un anno che abbiamo sempre lavorato, non siamo mai stati un Covid free rispetto ad altri posti d'Italia, soprattutto in regione Campania, dove altri luoghi come ospedali Covid specifici hanno chiuso come Covid free, noi abbiamo sempre lavorato. Abbiamo avuto solo un calo nel mese di luglio dove abbiamo fatto pochi ricoveri, ma già nel mese di agosto siamo stati di nuovo pieni, sia per quanto riguarda pazienti vaccinati e anche pazienti non vaccinati. Quindi diciamo che abbiamo lavorato a pieno regime in tutto questo anno, abbiamo fatto circa 200 ricoveri, una media molto molto alta con una terapia intensiva e subintensiva. Per cui il bilancio sicuramente oggi rispetto a un anno fa, quando all'apertura ricordo bene che a mezzogiorno ci è stato detto che l'urgenza era talmente elevata che dovevamo aprire nell'immediato, non eravamo neanche pronti per poter accogliere questi pazienti, nel senso che ci stavamo preparando anche psicologicamente all'apertura. L'urgenza non ci ha permesso più di avere questo tempo, quindi alle 14 del giorno 27 abbiamo aperto il Covid. All'epoca con il dottore Yelmi eravamo un unico reparto malattie infettive e terapia intensiva e subintensiva Covid e nel giro di 24 ore abbiamo riempito tutto il reparto. Infatti subito e successivamente il direttore generale ampliò i posti letto e divise sia a me che il dottore Yelmi su due piani diversi, proprio perché l'esigenza era talmente notevole che non potevamo aspettare. Più pazienti erano tanti, avevano necessità di cura e di bisogno. Nel mese di novembre siamo stati a pieno regime insieme con il dottore Yelmi, 16 posti letto io come terapia intensiva e sub, il dottore Yelmi 20 posti letto di malattie infettive a media e bassa intensità. Abbiamo lavorato dal mese di novembre in maniera ininterrotta. Tanti pazienti, come sapete, sono riusciti a sopravvivere al Covid, ancora oggi ci chiamano. Pazienti anche locali, abbiamo pazienti che ci vengono a trovare, che sono stati da noi anche per due mesi tra terapia intensiva e subintensiva e che oggi sono finalmente tornati a una vita normale. Noi siamo orgogliosi per il lavoro fatto anche perché veramente gli infermieri che con la manifestazione Covid sono venuti a lavorare perché non c'era personale infermeristico di supporto, quindi la direzione generale ha aperto varie manifestazioni Covid. Tutti i giovani infermieri che veramente hanno messo il cuore, l'anima, oltre che la loro professione, a supporto dei pazienti e delle loro famiglie, perché pazienti che non solo per il Covid, ma anche lontani dai loro cari, non è stato facile sia per loro che anche per noi da un punto di vista psicologico supportarli. Oggi rispetto ad un anno fa abbiamo ancora pazienti, il Covid sicuramente dal punto di vista nazionale e internazionale la vaccinazione ci ha aiutato tantissimo, questo possiamo tranquillamente dirlo, perché i pazienti, gli ultimi pazienti negli ultimi mesi sono nella maggior parte, il 65% sono pazienti non vaccinati dei nostri ricoveri, quindi soltanto il 35% rimane una bassissima percentuale di pazienti Covid positivi che invece sono vaccinati, perché succede probabilmente, questa è un'ipotesi che ci siamo posti noi medici che lavoriamo in questo ospedale, i pazienti che hanno il Covid e che sono vaccinati generalmente sono pazienti che hanno comorbidità importante o sono immunodepressi. Abbiamo avuto tanti pazienti con una leucemia, un linfoma, oncologici, quindi di conseguenza probabilmente la vaccinazione, anche se loro hanno le fasci più deboli e sono stati anche i primi ad effettuare la vaccinazione, probabilmente la vaccinazione non ha sortito l'effetto dovuto. Quindi sicuramente la vaccinazione a un anno di distanza i risultati ci sono, sono ben visibili, se no percentuali così diciamo al 50% non ci sarebbero, quindi già questo ci fa presupporre che dobbiamo continuare ancora con la vaccinazione, ci sono tanti che ancora oggi non credono al vaccino, ci sono tanti NoVax e logicamente io come medico e soprattutto come medico del reparto Covid invito ancora tutti coloro che non hanno fatto la vaccinazione ad effettuarla, perché la protezione c'è, che è, esiste ed è reale, quindi veramente un messaggio di vaccinazione questo per tutti. Quanti ricoveri ad un anno, insomma dottoressa, ci sono stati nel reparto speciale qui ad Agropoli? È un prossimo attimo sui 190, quindi circa 200, abbiamo fatto la terapia subintensiva e intensiva e penso che sia un buon numero anche perché rispetto al Cotugno che ha fatto 200 ricoveri abbiamo quindi una buona media nel senso che il Cilento rispetto alla regione Napoli, nella città di Napoli, insomma sono sicuramente un numero di densità di popolazione maggiore, tenendo conto che nel nostro nosocomio non sono venuti solo pazienti cilentani ma abbiamo accolto anche pazienti che provenivano dal Salerno Alta, quindi non c'era, Scafati Pagani, ma anche dal Napoletano quindi tantissimi pazienti sono pervenuti da noi, quindi abbiamo un numero abbastanza alto di ricoveri tenendo conto che molti di questi pazienti sono stati da noi anche per lungo tempo perché la negativizzazione al Covid spesso ci ha messo tanto tempo spesso sono stati pazienti che abbiamo comunque trattato con terapie da subintensiva, quindi ventilazione non invasiva per lungo tempo e finalmente poi dopo anche 60 giorni, 66 giorni sono andati finalmente via a casa o molti sono andati in centri di riabilitazione ci ha supportato molto Villa Margherita a Benevento è un centro di fisiopatologia respiratoria e neuromotoria dove pazienti che non potevano tornare a casa perché ancora non erano nelle condizioni respiratorie per poter stare finalmente a casa e vivere tranquilli sono passati attraverso questi centri di riabilitazione per cui adesso molti sono a casa dopo un lungo percorso e sono stati, questi sono pazienti che non erano vaccinati perché all'epoca non c'era la vaccinazione parlo dei primi pazienti avuti l'anno scorso e che subito appena hanno potuto si sono vaccinate proprio per il terrore dopo aver vissuto e essere sopravvissuti a una odissea qual è il Covid che la può raccontare penso soltanto chi lo ha vissuto sulla propria pelle la mancanza di respiro, l'affanno, la difficoltà e tante situazioni veramente che secondo me non si possono neanche raccontare sono cose che bisogna viverle come noi operatori, io parlo per tutti i miei infermieri gli OS e tutti quelli che sono stati vicini in questo reparto veramente ci si è provati psicologicamente non tanto lavorativamente perché fisicamente il lavoro non ci stanca ma è il fatto psicologico che dopo un anno sicuramente siamo provati non ci sono stati non ci sono stati